Primo maggio di quest'anno è un primo maggio di costrizione, non potremo festeggiarlo come è accaduto in tutti questi anni dal dopoguerra, nelle piazze, nei luoghi di lavoro, con manifestazioni. Questo naturalmente per la situazione della pandemia che ci ha colpito, così come abbiamo visto peraltro fatto il 25 aprile o come vedremo nella festa della Repubblica del 2 di giugno. Ciò nonostante è una festa importante, sarà festeggiata nelle modalità con cui si potrà farlo, anche con la creatività che in questi mesi sono stati escogitati dalle italiane e dagli italiani. Io lo dedicherei a coloro che in prima linea negli ospedali, talvolta perdendo la vita, si sono dedicati alla cura dei malati del Covid. Penso alle infermiere, agli infermieri, agli medici, alle persone della pulizia, a tutti i servizi che in un ospedale sono fondamentali per prendersi cura delle persone che hanno bisogno. Naturalmente poi via via ci accorgeremo come questa crisi imporrà dei cambiamenti sulla politica degli investimenti, sul ruolo dello Stato, sulla qualità dell'occupazione, sull'importanza di due settori come la formazione e come la sanità e anche sulle tutele dei lavoratori. Abbiamo visto che la cassa integrazione di oggi, anche quella in deroga, non basta a tener conto della molteplicità delle condizioni di lavoro che riguardano tanti lavori regolari, occasionali, tante partite IVA, tanti lavoratori autonomi e che quindi richiedono probabilmente, anzi necessariamente, degli strumenti di tutela più universali e più equi.